Eeeh what's up a tutti c'è ormai benvenuti raggio green in questo nuovissimo episodio su The Walking Dead Ricordo ragazzi il vostro sostegno con like assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno 30 like ragazzi So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime e per voi soltanto questione di un secondo Per cui mi raccomando spolliciate Eccoci qua di ritorno signori e signori dopo che la volta scorsa abbiamo continuato appunto l'episodio 4 E abbiamo vissuto momenti veramente molto poco piacevoli ragazzi Perché alla fine con il gruppo avevamo deciso di andare a Crawford di soppiatto Per riuscire a prendere le cose che ci servivano per far funzionare la barca che avevamo trovato nel capanno fuori dalla casa Il punto è che ad aspettarci ragazzi è stata una situazione che non ci aspettavamo Perché purtroppo gli zombie hanno preso il controllo anche di Crawford Il fatto sta che fra vari problemi alla fine siamo riusciti a recuperare sia la batteria che la benzina Abbiamo tra l'altro scoperto che Molly era anche parte di Crawford Prima di diventare una specie di nomade in savanna E alla fine è successo il patatrack ragazzi Perché Ben mangiato dai sensi di colpa ha deciso di dire la verità a Kenny Insomma la verità riguardo il fatto ragazzi che fosse colpa sua se Caccia e Duck sono morti Quindi Kenny fuori di sé ha pensato quasi di ucciderlo Siamo riusciti a fermarlo Il punto ragazzi è che la barca non sarà abbastanza grande per tutti Quindi arriverà il momento di dover anche scegliere chi lasciare a terra E come vi dicevo la volta scorsa io penso di essere quasi propensa a lasciare Ben indietro ragazzi Perché effettivamente non ha creato che problemi L'ultima volta ci eravamo lasciati qui ragazzi Ah wow Speriamo perché se la porta non è bloccata non ci metteranno molto a raggiungerci Pure Minchia vai di sopra vai di sotto Ovviamente me ne devo occupare io Davvero molto bene Usare vetta sinistra per scappare via Quello che cercherò di fare ma Sto fucine non avrà colpile eterno insomma eh Aspetta non vorrei spiegare Ok Oddio Oddio libera 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 Oh cavolo oh cavolo oh cavolo Oh cavolo Molto bene Iniziamo davvero la grande ragazzi Anche questo episodio Non vedevo l'ora porca vacca Cerchiamo di liberarci Intanto cerchiamo di non farci mangiare di nuovo Ok ok Ancora un paio di volte forse Ok di nuovo proviamo Via Mamma mia oh E che ansia Da dove stanno arrivando pure questi No no regà non è possibile Non è possibile tutto ciò È un disastro È un disastro assurdo Vai Via pure te Via pure te In mezzo alle scatole Quanti sono Via Oddio oddio Ecco L'accetta le è rimaste incastrata nella testa Oh Ok C'è ci sono zombie dovunque Spero non ce ne siano qua fuori Oddio Come on let's go Perché Addio No regà Cioè io umanamente non lo posso lasciare così No Non posso Un problema Troppo Un pacing Cioè tu Un piss Un Terry Un colder Un ca Bach Un danno Unammadı Un di abge Un emp nunca Un 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 che maledetti ragazzi no 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 non è pensato certo che è pensato apposta perché adesso ci fanno fare questa scelta su un personaggio che effettivamente già staremmo non sopportando tanto no tant'è vero che io stavo pensando ma ben dai magari poi lo lascio fuori dalla barca e che poi quando arrivano questi momenti ragazzi se uno ha un minimo non lo so di umanità come la vogliamo chiamare poi ovviamente i sensi di colpa comunque ti cominciano a venire perché uno dice comunque un essere umano alla fine direttamente non ha fatto niente di così orrendo voglio dire probabilmente se si è messo a negoziare quei banditi era per cercare pure forse di darci una mano per far sì che ci lasciassero in pace non lo so avrà fatto sicuramente degli errori ma non al punto da farmi dire no lo lascio andare quindi lo tiro su forza 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 e quindi mo sarà il doppio difficile se dovremmo decidere chi lasciare sotto a terra che c'è Omid? oh dio è morto Clem stay back don't get any closer I never should have left you I'm so sorry Christy get away from him me vivo o no? hey back already? ma stava dormendo we got you medicine good feel like I could use some oh pensavo fosse morto sembrava morto you look worse than I do we almost didn't make it out of there because of this asshole should have left him behind but we had the chance guys what the hell happened out there let someone else tell you I got work to do ok with a little luck you should start feeling better pretty soon I'll stay here for a few more hours to check on him let me know if you need anything thanks doc yes thank you so much maybe now is a good time for you and me to have a little talk in private ok di cosa vuoi parlare doc? grazie degli aiuto anche se mi dispiace per Bree purtroppo you're welcome I'm glad Bree will have died for something meaningful you want to know the worst part what? I don't feel much I mean I don't feel enough shouldn't I be broken up over what happened to her that's how I was when I lost my daughter when I lost my friends in those first few weeks but now it's like I just take something like this in stride like this is what our world is now and we'd better just get used to it what did you want to talk to me about? I know you care about Clementine anyone can see that and I know you want what's best for her but this plan of yours putting everyone on a boat with no destination do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? because I don't so I want to make you an offer what kind of an offer? I'll take her off your hands take her back with me to my people we're well supplied well hidden and a lot of us have had kids of our own and now Crawford's fallen we got nothing left to fear from them she'll be safe with us safer than she will be and she stays with you I promise you that's what you want for her isn't it? to be safe? you're coming at me with a lot here Vernon I need to think it over of course take your time but I want you to think about some things you're a good man Lee you've been protecting these people as best you can so far and they look up to you rightly so but it's different with a child you might have brought her this far but sooner or later she might ask you for more than you can give her I'm sorry if that's hard to hear but it's the truth I appreciate it Vernon let me think about it ok? you do that non me l'aspettavo minimamente sta cosa sinceramente st'offerta hey going somewhere? yeah I'm about to head out I just wanted to say thanks for everything it's been fun a te ne vai? tutto qui allora so that's it? after all we've been through you're just gonna leave? yeah I figured you don't owe me anything I got what I wanted in Crawford and I never did like the water where will you go? I don't know I'll figure it out when I get there what do you want me to tell the others? tell them whatever you want I'm not real big on goodbyes tell Clementine she's going to be okay you've got a good one there she reminds me of me e niente pure Molly ci dice ciao bella domanda questo non lo so ne ha passate tante mamma mia cioè raga non mi sta venendo a testa così perché appunto non ci dobbiamo dimenticare che ho scelto di salvare Ben è ok perché umanamente ragazzi mi sembrava la cosa giusta da fare per quanto comunque si ha fatto degli errori poi in effetti l'idea di Kenny prendere sta barca e andare e in effetti ragazzi boh dove non lo sappiamo quindi stiparci tutti quanti su sta barca senza sapere dove andare e cosa troveremo anche se troveremo il disastro dovunque ovviamente e probabilmente essendo costretti anche a lasciare qualcuno a terra quindi qui poi subentra la proposta di Vernon che sia davvero un male ragazzi decidere di lasciare Clem a Vernon e gli altri comunque di Vernon mi fido di sicuro saremo un gruppo di persone per bene probabilmente sarebbe la cosa migliore invece di continuare a sballottarla a destra e sinistra sottoponendola comunque costantemente a nuovi pericoli quindi non mi sembra neanche una cosa così malvagia sinceramente poi che succederà cioè Kenny non vorrà comunque che Ben salga sulla barca succederanno altri macelli adesso Clem mi chiede di andare a cercare i suoi genitori io non so manco che dirle potrebbero non esserci Tim che vuol dire è Standy era prevedibile che ci rimanesse male ragazzi probabilmente si era illusa fino ad ora mi dispiace cioè nell'anima ragazzi a me ste cose mi fanno mi fanno rimanere male mi giuro cioè quando mi rendo conto di aver fatto del male a qualcun altro in un modo o nell'altro sia anche solo con delle parole a me dispiace e dove è Clem adesso? o me deve piano altra sincope? dov'è? cavolo dove sono tutti? oi che è successo mo? ma ma è vero sta sognando no? perché se è vero ragazzi cioè mi può piare un colpo veramente oh cavolo è vero oh no no perché cavolo le ha lasciato la trasmittente perché? 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 oh porca vacca raga ahhh tu puta madre no 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 non mi di che mi ha morso mi ha morso? no 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 oh fuck Lee? Lee? you out here? Lee C'è lei! Non so che fare... Che gentile... E tu, Ken? Certo che lo farei, perché no? Quando? Ma che dici? Vai a farti fottere. Ma non è vero, non è vero. Sta mentendo. È una tua decisione. Ma non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Ma hai bisogno di preoccupare con Clementine senza me screwing things up. Non è vero, non è vero. Non è vero, non è vero. Ok, siamo tornati al rifugio nelle fogne, ma ormai saranno andati via, no? Ho detto senza Crawford possiamo stare più tranquilli. Magari sono andati via. No? Magari sono andati. Magari sono andati. Magari sono andati via. Ma che se ne dovrebbe fare di Clem, scusa? Magari sono andati via. Ma che cavolo succede adesso? Con chi parlo? Non farle del male E qua finisce l'episodio 4 ragazzi Quindi dovremo giocare l'episodio 5 che si intitola Non c'è più tempo Mi sa proprio che il 5 tra l'altro sarà l'ultimo Allora ragazzi ovviamente avendolo già giocato anche se davvero tanti anni fa Ricordavo che lì alla fine lo sappiamo no? Allora adesso io non voglio fare spoiler Però ragazzi adesso che abbiamo assistito a quello che è successo Anche chi non conosce il gioco immagina benissimo cosa accadrà più o meno Nel senso il destino di lì quale sarà ragazzi Questo penso che sia più che palese quindi non è uno spoiler Quindi io questo me lo ricordavo Ovviamente non dico altro né su quel poco che ricordo Né su niente perché appunto ricordo poco Anzi ricordo quasi niente Non ho affatto memoria di quello che succederà Però ricordavo quale sarebbe stato il destino di lì Non mi ricordavo succedesse così E fa sempre male ragazzi A parte che comunque ritrovarsi in queste maledette situazioni È sempre brutto perché proprio moralmente parlando diciamo così È sempre brutto perché alla fine ho deciso di salvare Ben Nonostante avessi espresso comunque un parere più sfavorevole nei suoi confronti Alla fine ho risposto male a Kenny Perché comunque ragazzi seriamente mi ha dato molto fastidio Quello che mi ha detto Praticamente mi ha detto che molto spesso ho preferito pensare ai fatti miei Quando non è vero perché quando ce n'è stata la possibilità Ho sempre 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 cercato di dare una mano a tutti Ho cercato di aiutare la sua famiglia Tra l'altro fino all'ultimo momento Sono stato vicino, stata vicino alla sua famiglia E mo mi viene a dire queste cose Sinceramente a me non va bene ragazzi Anche perché come giustamente qualcuno di voi ha fatto notare Nei commenti sotto allo scorso episodio Kenny sì è stato un elemento valido per il gruppo fino ad ora Ma appunto ragazzi anche lui ha compiuto i suoi errori In diversi momenti E quindi che adesso mi venga a dire a me Che ho pensato sempre fatti miei Sinceramente mi fa girare abbastanza gli zebedei Quindi ho preferito mandarlo al diavolo una volta per tutte Cioè basta pensa a me viene a dire queste cose Invece di venirmi a dire ok amico Sono vicino che dobbiamo fare, che possiamo fare per salvare Clem Perché è scomparsa Ben pure ragazzi dopo che gli ho salvato la vita Nonostante tutto io abbia deciso di dargli un'altra possibilità Dice no meglio che io rimanga qui perché avrai già i tuoi problemi Invece di stare appresso anche ai miei casini Cioè dove sta scritto prima di tutto che me puoi creare casini Cioè che devi per forza creare i casini E secondo nonostante io ti ho salvato la vita Preferisci startene per i fattacci tuoi Molto bene ragazzi Allora bisogna essere un pochettino più egoisti In diversi casi Comunque allora andiamo Io sono molto confusa vi dirò sinceramente Vernon e gli altri sono spariti Questo tizio era lo stesso che parlava con Clem al walkie talkie Alla fine è riuscita a prendersela Quindi veramente non so che cavolo aspettarmi da ora in avanti Sono molto molto confusa Allora per quanto riguarda ragazzi Quindi le scelte fatte durante questo episodio Hai ucciso il ragazzo in soffitta Io e il 25% dei giocatori Lo abbiamo ucciso Quindi la maggioranza ragazzi Ha deciso di non farlo Forse per pietà Forse perché Boh non Si sentivano dentro il coraggio di poterlo fare Visto che si trattava soltanto di un bambino fondamentalmente Però ragazzi Cioè farlo restare in quelle condizioni A me mi sembrava una condizione peggiore della morte sinceramente Hai mentito a Vernon O l'hai minacciato Io e il 58% dei giocatori Siamo stati razionali E onesti Quindi gli abbiamo detto la verità Hai portato qui Clementine Io e il 55% dei giocatori L'abbiamo portata Suppongo che si riferisca a Crawford Immagino Quindi io e la maggior parte dei giocatori Forse per tenerla comunque sott'occhio Hai lasciato morire Ben Io e il 53% dei giocatori L'abbiamo portata al sicuro Quindi probabilmente Buona parte delle persone Anche se di poco ragazzi La maggioranza Abbiamo deciso di Di risparmiarlo Nonostante tutto E mostrato il morso agli altri Io e l'82% dei giocatori Abbiamo deciso di essere sinceri da subito E di mostrare il morso agli altri Io credo che sia la cosa migliore ragazzi Quindi adesso andiamo a vedere Quali sono le anticipazioni Per il prossimo episodio Ah ok Qua ci fanno vedere anche le percentuali Per quanto riguarda Chi ha accompagnato lì ragazzi Io sono nell'11% dei casi Che siamo stati accompagnati Soltanto da Krista E Omid Quindi c'era la possibilità Anche che ci accompagnassero tutti ragazzi E anche la possibilità Che ci accompagnasse solo Kenny O solo Ben addirittura O Kenny e Krista e Omid O Ben e Kenny Insomma ce n'erano le possibilità Come c'era la possibilità Di andare completamente da soli Io devo dire di esserci rimasta male Ragazzi per quanto riguarda Kenny Però suppongo che il suo comportamento Sia una conseguenza Delle varie scelte che ho fatto Durante gli altri episodi Quindi andiamo avanti Ok ci siamo ragazzi Guardiamo le anticipazioni Dal prossimo episodio Ah non ce l'hanno fatta vedere Com'è possibile scusa Qui appunto inizia l'episodio 5 Non c'è più tempo Pensavo ci facessero vedere Un'anticipazione Come è successo sempre Anche per gli altri episodi Probabilmente non volevano Creare chissà che aspettative Come home and I'm not there I've got my walkie talkie In case they try that way Hey There were some batteries In one of those boxes Here You can have some too I think we should look for your parents They always stay in the same place When they go there The Marsh House? Yes that's it You didn't come into town From the railroad did you? We gotta go! Yeah, why? Clementine? Clementine! Clementine's gone Wherever she is I have to find her I don't even know if I can ask for your help We'll look for Clementine together Hell yeah If this was me Asking you for help Would you be there for me? You know what Kenny? Go fuck yourself I think maybe it's best I stay behind Okay C'è un piccolo riassunto ovviamente Del capitolo 4 Ma solo degli ultimi momenti In effetti Quelli che erano Più importanti Per ciò che giocheremo Evidentemente nel quinto episodio In effetti Dalla ferrovia ragazzi Dai binari Stava arrivando una Un'orda di zombie Immense There doesn't have to be any trouble here Ok Ok Questa era la scelta Che avevo fatto Per ultimo Ma che vuol dire Che intenda Resisti Just hold on Clementine I'm coming for you This is bad But we can deal with it Together We're going to need to hurry Il guaio è quello Non benissimo Non è bello Non è bello La mano è calda Si sta fiumendo un po' Si sembra ok Ora Non abbiamo molto tempo Ah pure Siamo arrivati a avere Molto meno Ok Ma non avrai Tanti colpi A disposizione In effetti Allora Di qua no Noi siamo arrivati Da qui ragazzi Materiali chirurgici Ah Apriamo un attimo Wow Magari c'è qualcosa Di utile Si può mai sapere No Non hanno lasciato Una mazza Mi sa Ragazzi Lo so che dovrei Cercare un'uscita Sto perdendo tempo Così completamente A caso Ma va benissimo Cos'è sta a fare Che cos'è Divaricatore Evidentemente Uno di quegli attrezzi Chirurgici Che usano Ragazzi Per tipo Divaricare La gabbia toracica Robbe simili Insomma Non Non roba fantastica Ecco Ascensore Giusto quello Che ci serve Allora Perfetto Ragazzi Manca a farci A posta Meno male Che ho prima Sbirciato Eh ma Di quanto Si può Allargar Sto cosa Non credo Ni moltissimo Non buono Non buono No buono No buono No buono No buono Oddio 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 Ehm Diamoci da fare Allora Let's do it Maybe It's a big risk Siete bassi Fanculo taglialo ormai Farà male Tanto ormai Tanto ormai Cioè voglio di Prova per provare Sperando però Non muoia di sanguato Ragazzi Oddio No vi prego Non tagliare troppo in alto Che poi non è Non scherzo No ragazzi No Non posso Ce la puoi fare Ah 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 Try to stay still Oh god I know Oh Dio Oh my god You're alive It was getting to the point Where we figured you weren't coming back Ehm Silenzio che ne so Ormai Do you think you'll be able to travel You lost some blood Anche se Cioè ragazzi Non credo che questo cambierà niente Non credo che questo cambierà qualcosa Mamma mia Terribile ragazzi Terribile Allora mi ha appena salvato la partita Dio Ogni volta Ogni volta Ogni volta È più difficile ragazzi È più pesante proprio Psicologicamente È veramente pesante Mo ci manca pure sta cosa Io Eh Io ho detto di tagliarlo via Ma Non so quanto comunque sia stata saggia questa scelta Probabilmente no Non lo è stata Perché Tagliare via o meno L'arto Morso Morso Non credo che sia un rimedio Non credo che impedisca all'individuo di trasformarsi dopo un po' Perché comunque Cioè O Il punto è forse o lo tagli via tipo subito Tipo appena dopo il morso Appena Cioè ma Il punto è ragazzi che comunque il sangue circola Cioè a prescindere da tutto Appena se lo tagli appena dopo Dopo un quarto d'ora Non lo so Cioè il sangue circola comunque a prescindere L'infezione si sarà sparsa comunque a prescindere Quindi Probabilmente ho sbagliato pure qua ragazzi Ho fatto sì che soffrisse Gratuitamente Che Arrivano certi momenti ragazzi In cui Cioè la pressione psicologica è talmente tanta Che io non ragiono neanche più tanto lucidamente Tra virgolette Vedete Sta cosa probabilmente avrei potuto risparmiargli Era Non lo so ragazzi Non lo so Cioè Sento che Ho giocato questo gioco Sto ancora giocando questo gioco Non nel migliore dei modi Anche se solitamente Nei giochi a scelte Poi va sempre un po' così Nel senso che non puoi prevedere Quali saranno le scelte più giuste E quelle più sbagliate Però Boh Mi sembra di non farne una giusta Sinceramente Tra l'altro Stiamo andando così Completamente la cieca Non abbiamo la minima idea Di dove possa essere Clem Di dove possa stare Sto tipo Sappiamo nulla Tutto buttato un po' così Non lo so Non so neanche quanto durerà Questo capitolo 5 È di sicuro l'ultimo Quindi significa che ci stiamo avviando Verso la fine ragazzi Non lo so ragazzi Se voi avete dei suggerimenti Dei consigli da darmi Se conoscete il gioco Ovviamente senza spoiler Possibilmente Come sempre Aspetto i vostri pareri Qua sotto in commento Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione E obdoscio a tutti i ragazzi Da giocherino Ciao